Benvenuti nel mondo degli orologi Matté Tissot. Matté Tissot è un marchio svizzero di orologi di lusso che ha una lunga e prestigiosa storia nella produzione di orologi di alta qualità. Fondato nel 1886 a Lepon de Martel, nel cuore della regione orologera svizzera, il marchio si distingue per la sua attenzione alla precisione e alla qualità, con una produzione artigianale che utilizza solo i migliori materiali e movimenti svizzeri di alta qualità. La tradizione orologera svizzera è una delle più antiche e rinomate al mondo, e Matté Tissot è uno dei marchi che meglio rappresentano l'eccellenza svizzera nel campo degli orologi di lusso. La produzione artigianale di orologi Matté Tissot si basa su una lunga tradizione di maestri orologiai che hanno fatto della precisione e della qualità il loro mantra. Il design degli orologi Matté Tissot è elegante e sofisticato, con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. I modelli sono caratterizzati dalla massima attenzione ai dettagli e dalla presenza del logo del marchio, che rende gli orologi immediatamente riconoscibili come prodotti Matté Tissot. La collezione di orologi Matté Tissot comprende modelli per uomini e donne, tra cui orologi cronografi, automatici e a quarzo. Il marchio ha collaborato con diversi brand di moda e lifestyle per creare edizioni speciali di orologi, che uniscono lo stile e la prestigiosa storia del marchio Matté Tissot alle competenze e all'esperienza di altri produttori di alta gamma. Queste collaborazioni hanno portato alla creazione di orologi unici e straordinari, che combinano l'estetica Matté Tissot con la qualità artigianale di altri marchi di orologi. La produzione artigianale di orologi Matté Tissot si basa sulla scelta dei migliori materiali e movimenti svizzeri di alta qualità, garantendo la massima precisione e affidabilità. Gli orologi Matté Tissot sono resistenti e duraturi, grazie alla cura e all'attenzione che il marchio dedica alla qualità dei suoi prodotti. In sintesi, Matté Tissot è un marchio svizzero di orologi di lusso che rappresenta l'eccellenza della tradizione orologera svizzera. La produzione artigianale di orologi Matté Tissot utilizza solo i migliori materiali e movimenti svizzeri di alta qualità, garantendo la massima precisione e affidabilità. La collezione di orologi Matté Tissot comprende modelli per uomini e donne, tra cui orologi cronografi, automatici e acquarzo, mentre le collaborazioni con altri brand hanno portato alla creazione di edizioni speciali di orologi unici e straordinari.